Per me Romagna Trail è la mia prima esperienza in bikepacking. Per me, per me, per me. Per me, per me. Per me, per me. Beh, innanzitutto sono contento che ci sia finalmente un trail associato anche alla nostra regione perché insomma pian piano gli sto facendo uno ad uno con calma tutti. Per me, per me. 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 L'idea è quella di compiere un viaggio e di conoscere persone e conoscere un territorio. Grazie!